Musica Bene ragazzi, qui è di regolato e oggi siamo qua con un nuovo episodio di Minecraft Hunger Games E siamo qui ragazzi negli Hunger Games degli SPHX E oggi sono qua a prendere un nuovo kit Oggi andiamo a prendere il kit Killstreaker che mi è stato consigliato da molti di voi nei commenti Ovviamente se volete consigliare un kit basta fare, basta scrivere qua sotto nei commenti Hashtag Dragote Kit, il nome del kit è una brevissima descrizione In modo che io capisco che kit volete che prendo Dato che comunque non gioco negli SPHX da molto tempo Di conseguenza i nuovi kit non li ho praticamente provati Potete sia consigliarmi kit a pagamento che kit gratis L'importante è che vi consigliate E mi raccomando ragazzi lasciate subito adesso un like In modo che mi fate capire che volete altri Hunger Games E quindi naturalmente io continuerò a farli Mi raccomando superiamo i 200 like come l'altra volta Infatti nello scorso Hunger Games abbiamo superato i 200 like per il ritorno degli Hunger Games Mi ha fatto davvero moltissimo piacere Adesso mancano 30 secondi Quindi mi raccomando siamo qui in questa mappa molto bella Che c'è la sabbia rossa La sabbia molto rossa E niente quindi vediamo qua Qua ci sono delle chest, molte bellissime chest Sono molte chest qui Guardate qui quante chest Guardate quante chest Speriamo di prendere qualcuna di utile Mi raccomando mi raccomando Oh intanto io prendo di nuovo il kit Comunque è un kit molto bello Perché adesso ve lo spiego subito il perché Perché ho letto prima di prenderlo Che cacchio ci dava Oh intanto sto già prendendo roba utile In pratica sto prendendo tutto quanto io più o meno Oh prendiamo qua Qua, qua, qua E vabbè questa cosa l'ave l'hanno già presa Perfetto Allora Ovviamente lascio testare tutta quanta roba che ho preso Perché naturalmente non c'entra nulla con il kit Intanto ci modifichiamo questo Cambiamo anche spada Mettiamo qui la bussola Perfetto E qua dice Clicca per informazioni su keystreaker Ok 4 uccisioni Vedete ragazzi In pratica Ogni kill ci darà una ricompensa Adesso non sto qui a leggervi le ricompense Però L'importante è che sapete questo Ogni kill ci dà una ricompensa Poi adesso Se farò molte kill Andremo a vederle un po' assieme Se non sbaglio Tipo 10 kill Ti dà roba utilissima Comunque sia basta fare così E ce le dice Ad esempio 10 uccisioni Ti dà 5 mila d'oro Quindi 9 uccisioni Addirittura ha un sacco di lingotti di ferro Quindi davvero molto utile Allora Intanto io direi di andare a uccidere Prima di tutto questo qua Che non so che cazzo sta facendo Dove cazzo è andato Ma Mi ha lanciato la debolezza Raga Adesso mi fa il culo Se non scappo un attimo Aspettiamo un attimo Intanto qui c'è una chest Chest Sacco di inchiostro Utilissima ragazzi Davvero Non potevate mettere qualcosa di più utile Oddio Ma questo qua si muove Ma What the fuck Ok È morto a caso Va bene L'ho visto da un momento all'altro Tipo trapassarmi la testa E dopo l'ho ucciso Va bene Questo è davvero molto normale Naturalmente Intanto guardiamo un po' Comunque sta mappa Devo dire che è molto bella La devo davvero ammettere È praticamente un bioma Hanno preso un bioma E poi l'hanno trasformato Mettendo naturalmente le cesti Gli alberi Molto figa sta mappa Raga Mi raccomando Giocatela Giocatela Ok Qua intanto c'è una specie di power ranger Credo che sia un power ranger Effettivamente Stefano tv Guardatelo tutti quanti in tv Perché naturalmente Ok intanto mi ha dato un bonus Hai ottenuto un bonus raro Resistenza per 50 secondi Porca troia Minchia Ok intanto qua ci aggiustiamo la roba Benissimo Così Buttiamo la merda Abbastanza inutile Vabbè Questa roba qui la butto Non me ne faccio nulla Dai Andiamo subito a trovare gli altri Dai Tanto io dire di mangiarci subito Non me l'adoro Tanto ne ho 5 Ho anche abbastanza ender Però devo dire Quindi Volendo possiamo anche scapparcene dopo Ok Là c'è un bonus E credo che questo tizio sia Più o meno qua Dai Andiamolo subito a uccidere Così ci da altre cose Speriamo che ci dà un altro bonus Molto bello Molto bello Voglio bonus Quanta gente sta lì Oddio Ok Guarigione No che cazzo guarigione Sono un deficiente Handicappato Ok Oddio Sono due raga Sono due Ok Morto Ok Morto anche lui Doppia uccisione Oddio Devasto Davvero il devasto Stiamo facendo in questa partita Ok Diamoci questa roba Lava Questa cos'è Guarigione Ce la teniamo qui Questa qua la buttiamo Qui c'è un piccone Oddio ragazzi C'ho troppa roba Efficienza 4 Mettiamocelo qui E siamo più o meno messi bene così Dai Andiamo avanti Andiamo avanti Subito Senza mai fermarci ragazzi Sempre l'unico così Intanto buttiamo là un enderpearl Così magari siamo un po' più veloci Dai C'ho ancora la C'ho la resistenza al fuoco E anche la respirazione sott'acqua Cioè vi rendete conto Ragazzi questo kit Sicuramente me l'avete consigliato Perché evidentemente sapevate che Faceva abbastanza kill E evidentemente è davvero un kit molto buono Io ve lo consiglio se soprattutto Fate molte kill Perché all'inizio non dà molta roba Ve lo garantisco Però se fate molte kill Poi diventate quasi invincibili Ecco Ok intanto lì ho visto un fuoco d'artificio Quindi Non va molto bene Tanto un tizio è soffocato Da quello che ho letto Ok 60 blocchi Andiamo di là Ok Eccolo qua Oddio Oddio raga Porca troia Mi leva Gesù Cristo Mi leva di cuori Ok Scappiamo un attimo Eh sì Però non va bene così eh Non va per niente bene Porca troia Non va bene Non va bene Che cazzo di spada Mi leva troppo Non va bene raga Non va per niente bene Ecco Questo intanto se ne sta andando dovunque Guarigione Ok E' morto Non ci credo Mamma mia ragazzi Veramente Me la sono sudata Non sto scherzando Pensavo di morire Sono serio È stata davvero una faticata Adesso non so Elmo in diamante Oddio ragazzi Il toccetto è fantastico Che è a fune in ferro Eh Ok Questa ce la mettiamo qui Perfetto Dovrei avere un'altra cosa di lava Mamma mia Le enderper ragazzi In questo caso mi hanno salvato Sarei morto Ve lo garantisco Ok Tanto passano treni Trattori vicino a casa mia Di tutto va bene Grazie mille Al trattore che naturalmente Sta passando vicino a casa mia Lo ringrazio davvero tanto E ok Andiamo un po' qua alla situation Dobbiamo andare di lì Quindi andiamo di lì Perché noi dobbiamo andare di lì Per cui andiamo di lì E quindi basta Basta così Hai capito Capito? Avete capito? Io ho capito Tanto qui c'è la muraglia cinese Ok va bene Non c'entra un cazzo però Più o meno Si può definire Si può definire benissimo Una muraglia cinese Tanto io mangio mele Adoro come Come se fossero Cosce di pollo Perché Ne ho volontà Ok Dov'è? 60 blocchi Dovrebbe essere tipo qua Dov'è? Dove stai? Dove stai? Dove sta? Non lo vedo È andato via Che palle Non scappare sempre Io veramente Eccolo là Finalmente Ah sta cercando di prendere il bonus Ah guarda guarda Aspetta Ti aiuto io a prendere il bonus Un attimo eh Dammi 5 secondi Un attimo Prendiamo il bonus Assieme zio Hai preso il bonus Perfetto Abbiamo preso il bonus Ma è così Abbiamo preso il bonus Grandissimo Grandissimo Guardate il bonus là Che dice Grande Dregote Mi hai salvato Sono una piccola pecora Rossa Quindi Eh Ecco Ci siamo capiti Perfetto Comunque Spero naturalmente Che questo Hunger Games Vi sia piaciuto Se questo Hunger Games Vi è piaciuto Naturalmente Invito a lasciare Un bel pollice in su Questa volta ragazzi Superiamo anche I 250 mi piace Mi raccomando Naturalmente Consigliate qua sotto Un kit Con l'hashtag Dregote kit Il nome del kit E una piccola Descrizione del kit Qua da Dregote è tutto Ci sentiamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti